Sindaco Accadia è in prima linea nella realizzazione di questo progetto, di questo percorso, in che termini? Allora, innanzitutto la progettazione è in fase avanzatissima, nel senso che abbiamo ricevuto la prima tranche di finanziamenti, abbiamo già preparato una serie di progetti, i cui lavori partiranno a breve, quindi siamo nella fase già esecutiva. Abbiamo un cronoprogramma che stiamo rispettando, così come ci ha riconosciuto lo stesso Ministero della Cultura, siamo la Puglia e Accadia in particolare, siamo una delle realtà che è più avanti, sia nella realizzazione che nella progettazione, per cui rispetteremo i tempi previsti dal PNRR. Nell'ambito ovviamente di queste attività, il corso odierno, quello Erasmus che viene realizzato in maniera intensiva, è un corso internazionale, come sapete, di Accadia, si inserisce proprio nell'ambito del progetto della New Generation EU, perché nell'ambito del progetto noi realizzeremo una scuola europea di Accadia, che è una scuola europea della cultura, vogliamo fare, cioè di Accadia una fucina dell'alta formazione e della ricerca. E quindi questo chiaramente è un primo passo, quello odierno, ma ci auguriamo che questa collaborazione diventi una collaborazione in pianta stabile. Quanto è importante e che peso specifico ha per un territorio come Accadia? Un peso specifico notevolissimo, perché rappresenta ovviamente una sfida da vincere e da realizzare. Un peso notevolissimo perché consente non soltanto di candidare Accadia come centro di accoglienza di natura turistica, ma anche di far sviluppare tutte quelle imprese di nicchia locali che hanno bisogno di fare un salto di qualità. E ovviamente in questo senso la cultura può far da traino a tutto quello che le dicevo, cioè quelle che sono le finalità del progetto, cioè di rimpopolare il borgo antico, di rimpopolare Accadia e i Monti d'Auni in generale.